Pasquale Pane si è tenuta la presentazione ufficiale, innanzitutto quali sono le tue prime impressioni per questa tua nuova avventura in bianconero? Come ho già detto in conferenza è stata un'impressione, ho avuto un'impressione sin da subito, ottima della società e di tutte le strutture, soprattutto comunque anche della città. Una città che mi è piaciuta sin da subito, per il resto conosco anche qualche ragazzo che ha giocato con me, quindi le impressioni che mi hanno dato anche loro sono ottime. Presentati un po' ai tifosi della Robur, quali sono le tue caratteristiche, sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale? Come già ho detto, mi piace tanto uscire e giocare con i piedi. A livello caratteriale mi pare aiuto a conoscere un ragazzo molto tranquillo fuori dal campo, ma in campo si fa sentire come andare la difesa.